Siamo a fine anno, partiamo dal recentissimo passato e poi torniamo indietro, il recentissimo passato che ti ha fatto arrabbiare perché c'è quella partita di Mugnano su cui avrai ripensato e che spiegazione ti sei dato? L'unica spiegazione è che la testa era ormai in vacanza, abbiamo preso due gol incredibili che nessuno neanche le squadre di prima categoria prendono, i ragazzi si sono impegnati, quello non si può dire niente, però poi quando la testa, il cervello, l'attenzione non è al massimo si rischiano di fare figuracce. Pur sudando, pur impegnandosi, però ripeto, la testa era già in vacanza. E invece torniamo un po' all'indietro, è stato un girone particolarmente positivo, forse qualcuno non l'ha sottolineato abbastanza, forse miracolo è un parolone, però è sicuramente un risultato molto molto positivo. Sì, sì, ad oggi sicuramente sì, perché col punto di penalizzazione siamo quinti in classifica, quindi va benissimo così. Il nostro obiettivo sarà e resta quello della salvezza, ci apprestiamo così a disputare un girone di ritorno che sarà molto più duro, molto più difficile, anche perché tantissime squadre si stanno già rafforzando, stanno facendo mercato, l'hanno già fatto nel mese di dicembre e quindi saranno squadre ancora più competitive. Lo dico dall'inizio anno che questo è un campionato livellato, quindi bisogna stare attenti ogni partita. Adesso riprendiamo con le prime due della classifica, Pontedera e Salernitana, quindi sicuramente in salita, però poi noi dobbiamo assolutamente fare benissimo col Pontedera, dobbiamo cercare di conquistare i tre punti. Poi ho visto il calendario, la maggior parte delle partite della media e bassa classifica, le squadre di media e bassa classifica ce le abbiamo in casa e quindi la nostra salvezza dobbiamo costruire all'Angelini. Stiamo dando così delle soddisfazioni ai tifosi del Chieti, speriamo così di ripetere questo girone in andata. Di Siano De Patria cosa chiede al 2013? Magna è nulla di particolare, spero così che questi ragazzi possano crescere, continuare a far bene come stanno facendo, anche perché questi ragazzi si possono togliere delle soddisfazioni, possono dare delle gioie così a questa società e ai nostri tifosi. Quindi speriamo di continuare a far bene e di crescere nel giorno di ritorno, anche se, io ripeto, bisogna stare attentissimi perché sarà un giorno di ritorno molto difficile.